Ascolto e orientamento alla scelta e alla carriera, servizio del Placement Office dell'Università di Siena. A cosa serve un percorso di ascolto e orientamento alla scelta? Se hai delle incertezze sulle scelte fatte o da fare, quindi vuoi orientarti o riorientarti, sia scelte di formazione che di carriera, possiamo progettare insieme un percorso di orientamento su misura per te. Sono colloqui individuali, riservati e gratuiti. È un percorso di counseling breve. Possono essere 4-5 incontri per riconoscere e valorizzare le tue competenze e risorse personali, individuare i tuoi obiettivi e scegliere per il tuo futuro. È facile prima di iniziare l'università o sul finire della carriera accademica o anche durante trovarsi in momenti di confusione. Si passa sempre dalla confusione per arrivare alla chiarezza. È una strada nuova che sia veramente tua. Il percorso serve per definire i tuoi obiettivi. Il primo colloquio serve proprio per fare un quadro della situazione e immaginare un percorso su misura per te, in base ai tuoi obiettivi o per costruirne di nuovi insieme. Serve per riconoscere i tuoi punti di forza. Attraverso esercizi, anche da fare a casa, si mettono a fuoco le tue risorse. Il punto di partenza è proprio questo. È come aprire la tua valigetta degli attrezzi e guardarci dentro. Un altro punto di questo processo si focalizza sugli interessi e valori professionali. Si procede con attività che servono proprio a far emergere i tuoi interessi, le cose importanti per te e le cose che ti fanno stare bene. Potremmo immaginare insieme il tuo prossimo piccolo passo, fare insieme un vero e proprio piano d'azione. Per prendere appuntamento per colloqui anche online, scrivi a ascoltoattivo-unisi.it Per prendere appuntamento per colloqui anche online, scrivi a ascoltoattivo-unisi.it